Salve a tutti, le tre parole che ho scelto per presentarvi la mia esperienza nel progetto Erasmus Team for CLIL sono crescita, condivisione e pratica. Crescita in quanto il progetto e in tutto il suo evolversi è rappresentato per me un momento di formazione, di scambio e di opportunità dal punto di vista professionale, umano e di pratica nelle scuole nelle quali siamo riusciti poi ad attivarlo. Condivisione in quanto la condivisione sia nei percorsi formativi con i webinar che ci hanno accompagnato durante tutti i due anni del progetto, sono stati un momento di formazione e di condivisione di strumenti e di pratiche importanti, condivisione anche con i team, quindi nella comunità di pratica dove noi abbiamo operato quindi con la realizzazione di progetti e attività concrete. L'ultima parola, cioè pratica, è l'ho scelta perché di fatto il taglio importante di questo progetto è stato proprio la pratica all'interno delle scuole e anche per quello che mi riguarda l'esperienza di mobilità a Chester, la parte che ho trovato più interessante è stata proprio quella del job shadowing. Con queste tre parole io consiglio a chiunque di partecipare ad un'esperienza simile e mi auguro che non si disperda il patrimonio di questo progetto che appunto può essere facilmente trasferita come una pratica in altri contesti territoriali e in altre situazioni.